Quindi vi è un direttorio, vi è l'amministratore delegato, noi su questo, non solo noi, altri abbiamo concentrato anche la giudizia di costituzionalità sul fatto che esempi come questi ritroviamo scherzamente in Europa, nonostante i problemi, le discussioni che ci sono, ma si intracciano forse in Bulgaria come abbiamo detto e contemporaneamente però vi è un altro aspetto che vorrei sottolineare perché è evidente a tutti che nel momento noi abbiamo una legge elettorale che è l'Italicum che è stata già approvata, intanto il testo parla di due Camere e due Senato e non sappiamo poi che cosa accadrà, ma lì nei fatti si è per il meccanismo dell'Italicum, della legge elettorale, quindi il meccanismo diciamo del premio di maggioranza, è molto facile che alla fine facendo tutti i conti, qui abbiamo veramente, siamo quasi vicini ai due terzi come rappresentanti nell'espressione della maggioranza e del governo all'interno del Consiglio di amministrazione e di tutto il sistema della governanza e questo io ci tengo a sottolinearlo perché effettivamente è una questione diciamo molto grave e seria.